Si può iniziare oramai a parlare di serialità a Battipaia per quanto riguarda i furti di auto. L'ultimo episodio si è registrato nella serata di ieri, vittima è un medico di Agropoli che non ha più trovato la sua vettura, una Range Rover, che era stata parcheggiata nella zona industriale battipaiese. Il veicolo, stando a quanto si apprende, era anche dotato di un sofisticato sistema antifurto, ma ciò non ha impenserito i ladri, che sono ugualmente riusciti nell'intento di portarlo via. La frequenza con cui tali episodi accadono fa pensare che in zona sia all'opera una banda specializzata in tali azioni, anche alla luce del furto in questione, che è stato possibile solo grazie ad un'affinata tecnica la quale ha permesso di agire il sistema di difesa. Non si contano gli appelli per una maggiore sicurezza da parte della cittadinanza, elemento che purtroppo non si limita soltanto a battipaia, ma che coinvolge l'intera piana del Sele e i territori limitrofi. Tantissimi gli episodi di furti e rapine nella zona, con i malviventi che si fanno sempre più ardimentosi, tant'è che si spingono a colpire anche in zone centrali, trafficate e in ore non prettamente notturne. In città aumenta il timore con i residenti che denunciano di non riuscire più a riposare in modo tranquillo, chiedendo interventi da parte delle istituzioni e soprattutto dalle forze dell'ordine.